I dottori commercialisti negli enti locali rappresentano un punto di riferimento a garanzia dell'amministrazione pubblica dei cittadini e dei terzi. Hanno dei compiti molto spesso di revisione, di gestione con funzioni di consulenti, consiglieri o assessori, quindi il segmento degli enti locali chiede risposte qualificate. La figura della revisione dei conti è stato al centro dell'incontro che si è tenuto presso la sede dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord ad Aversa. I revisori dei conti e l'ordine saranno così a disposizione degli enti locali per poter offrire la consulenza e il contributo nelle scelte strategiche di contabilità economica. I dottori commercialisti negli enti locali sono importanti perché hanno dei compiti di revisione che sono a garanzia dei cittadini e dei terzi. Hanno dei compiti molto spesso di gestione perché molto spesso i dottori commercialisti hanno funzioni di consiglieri nell'ambito dei consigli comunali, di assessori nell'ambito dei consigli comunali. Quindi la materia degli enti locali è una materia che occupa molto la nostra categoria ed è una materia alla quale la nostra categoria intende dare delle risposte ferme, delle risposte sempre importanti e qualificate. Per questo abbiamo organizzato questo corso in materia di enti locali proprio per specializzare sempre di più i nostri iscritti e fare in modo che loro siano sempre più presenti in tutte le amministrazioni pubbliche e siano sempre garanti della trasparenza nei confronti dei cittadini innanzitutto e anche dei terzi. Inizia un corso molto importante anche perché dopo una serie di convegni che noi abbiamo fatto e di approfondimenti su vari argomenti abbiamo istituito e abbiamo organizzato questo corso proprio sia per gli amministratori degli enti locali sia per i professionisti che si interessano degli enti locali. È un corso importante, un corso nel quale andiamo ad approfondire determinati argomenti, un corso nel quale andiamo ad approfondire determinate problematiche e dopo questo corso, ma non solo dopo questo corso, noi ci poniamo a disposizione degli enti locali per poter dare la nostra consulenza, per poter dare il nostro contributo, per poter dare la nostra esperienza professionale, soprattutto oggi che gli enti locali si avvicinano molto a quello che è la nostra attività professionale per la contabilità economica, contabilità economica che noi curiamo da decenni e che è il nostro core business e quindi diciamo che si trovano un attimo non organizzati per poterla seguire, noi invece è la nostra attività principale professionale per cui possiamo dare un contributo molto valido e concreto. Inizieremo il corso di revisione enti locali per l'anno 2016, un corso molto molto importante perché consentirà a tutti i colleghi di approcciare la materia in modo regolamentare e operativo. I relatori che ci hanno dato la disponibilità sono tutti quanti di alto profilo, avremo relatori del mondo universitario, colleghi con esperienza anche ministeriale a livello di MEF, verrà il procuratore, capo della Corte dei Conti, il dottore Catalano e il giudice Airoma. Il corso si articola in sette moduli e con questo corso noi intendiamo dare la possibilità a tutti coloro che fanno attività di revisione, un'attività che tra l'altro è molto molto pericolosa se non si hanno delle basi solide, di avere maggiore consapevolezza di ciò che andranno ad affrontare sull'ente locale. Soprattutto per i commercialisti che poi molto spesso sono coinvolti nella gestione di queste attività degli enti locali, non solo nell'esercizio della loro ordinaria attività ma come revisori e l'approfondimento di oggi è proprio legato a dare diciamo delle indicazioni su quello che è lo scenario di contesto, capire perché c'è questo ruolo così pregnante e importante del dottore commercialista. Tutto dipende dall'attuazione di leggi delega che hanno stabilito dei nuovi principi contabili che vanno osservati ed applicati in funzione di rendere quanto più trasparente e comprensibile la lettura dei bilanci. Tutto questo si dovrebbe diciamo avere come contraltare anche una maggiore rappresentatività di quelle che sono poi le missioni e i programmi che vengono svolti dagli enti locali. Se tutto funzionasse a regime attraverso la lettura del bilancio si potrebbero comprendere il raggiungimento dei risultati che quindi è quello che poi è l'oggetto di monitoraggio e controllo da parte del revisore rispetto alla missione quindi al programma che è stato conferito anche dalla rappresentanza politica. Una economicità di tempo per dare maggiore spazio alle relazioni tecniche.